Negli ultimi 2-3 anni, quindi siamo davanti a una nuova rivoluzione nel campo della compressione biochimica della malattia di Gauchet, abbiamo constatato, grazie agli studi di alcuni gruppi in Olanda, che nella malattia di Gauchet vi è l'accumulo di sostanze nuove, che prima non erano state dimosticate, che sono dei derivati nomi difficili, sfingosinici, l'ISO, il GB1 inglese, sono molecole che permettono rapidamente adesso di inquadrare non solo la diagnosi accanto all'attività enzimatica, ma soprattutto di fare una classificazione fenotipica del paziente a seconda dei livelli di questi biomarcatori, livelli molto alti, sono correlati a pazienti con mutazioni molto gravi e soprattutto, terza cosa, servono a seguire nel tempo gli effetti delle nuove terapie, dell'antica terapia della malattia di Gauchet, terapia enzimatica, terapia di inibizione del substrato, in futuro avremo le terapie geniche, servono a capire esattamente se il paziente non solo una risposta clinica, ma quello che più ci interessa è andare profondamente a capire cosa succede nella cellula, una risposta metabolica profonda e questi nuovi biomarcatori, questi derivati sfingosinici, queste molecole che si accumulano nel seguito al difetto enzimatico, ci permettono oggi di seguire molto molto meglio l'andamento clinico dei nostri pazienti.